Ciao, sono Francesca e sto frequentando il Master di Alta Formazione in Gestione, Sviluppo e Amministrazione delle Risorse Umane presso Alma Laboris. Fin dall'inizio di questo mio percorso sono stata seguita dal personale con estrema puntualità e precisione. Le lezioni sono molto stimolanti e il corpo docente è preparatissimo e soprattutto molto disponibile sia durante sia dopo, rimanendo costantemente in contatto con noi per qualsiasi tipo di chiarimento. Le lezioni in Formula Weekend danno la possibilità a chiunque di poterle eseguire con estrema facilità. Inoltre, partecipando al servizio di placement offerto sempre da Alma Laboris, sono riuscita ad ottenere solo dopo tre settimane dall'inizio del Master un tirocinio curriculare di sei mesi presso un'agenzia per il lavoro. Di conseguenza, per questi motivi e per tantissimi altri, il mio feedback verso questo Master non può che essere positivo.